Un Consiglio Comunale all'insegna di continue fibrillazioni, quello di Sant'Agata Militello. L'ultimo atto è stato quello delle dimissioni del Consiglio Comunale Laura Reitano, dimissioni avvenute a pochi mesi dalle elezioni amministrative e dall'inizio della campagna elettorale per il rinnovo dell'esecutivo e dello stesso civico consesso. Negli ultimi mesi il clima politico si è infuocato, probabilmente anche in vista delle prossime elezioni, e quindi sono dinamiche politiche, devo dire, assolutamente giustificabili. È chiaro che prevale in questo momento un clima un po' infuocato per via di un certo equilibrio che c'è in Consiglio Comunale, per cui su ogni tipo di deliberazione c'è sempre uno scontro pronto ed aperto, c'è la ricerca dei numeri da far prevalere. Quindi questo chiaramente acuisce lo scontro politico. Però sono dinamiche tutto sommato assolutamente compatibili con anche il fatto che prossimamente ci saranno le elezioni, quindi siamo in clima pre-elettorale. Un fuoco determinato anche dall'incertezza per capire chi sono i candidati, le squadre che saranno impegnate? Sì, certo, ancora c'è tutto da definire, perché c'è qualche movimento chiaramente a Sant'Agata, qualche candidatura già annunciata, però effettivamente perché gli schieramenti siano definiti passerà ancora un po' di tempo. E quindi in preparazione degli schieramenti chiaramente c'è chi si guarda intorno e sta cercando di capire come organizzarsi per le future elezioni.